Il secondo premiato di questa serata che vi lascio ancora un attimo di sospazio perché è video. Ho piacere di invitare sul palco Sifu Paolo Cangelosi. Applauso! Benvenuto Paolo. Ciao Paolo, buonasera. Grazie, grazie mille. Allora, anche per te vorrei leggere innanzitutto subito la motivazione perché sei stato premiato come premio Gran Maestro dell'anno attribuito per la promozione del Kung Fu Cinese tradizionali, dei sospetti tecnici e culturali in Italia e nel mondo. Mi sembra un riconoscimento enorme. Sì, sì. Sono spesso in giro per il mondo per eventi, gala, show, seminari e sono contentissimo di essere qui nel mio paese perché è raro perché qui in Italia succedano certe cose. Noi ti ringraziamo perché dopo i tanti premi che hai ricevuto in giro per il mondo, che sappiamo sono tantissimi, venire a prendere anche un premio che rappresenta un po' la nostra città e il nostro mondo, questo ci fa solo enormemente piacere. Allora io vorrei invitare sul basso per premiare Paolo Cangelosi, Cristiano Radicchi, vicepresidente WDKA. Facciamo un applauso a Cristiano. Abbiamo Elena che farà la passaggio di consegne. Ciao Cristiano. Questo è il momento del premio, lo ricordiamo, Gran Maestro dell'anno per la promozione del Kung Fu Cinese tradizionale. Grazie, grazie ancora, grazie ancora e buon proseguimento, grazie.